Pag. 31 facciamo il recitativo questa che io tiro al viso è la strada che in terra dunque veniamo da quest'area in cui tu hai spiegato all'uomo il barco e il venere danno gioia al corban eccetera lui cerchi di convincerlo a quanto quello che tu offri per lui è importante ora qui gli dici finalmente ecco se fai questo questa è la mia strada che ti conduce al paradiso non quella che ti ha promesso l'angelo che chissà quando arriverà però non abusare del tempo sbrigati perché questa è un'occasione che ti capi da solo adesso quindi non dice proprio una tentazione vera e forte facciamo una lettura per favore e poi vediamo questa che io tiro al viso è la strada che in terra al cielo conduce mira mira come gentile tempestata di rose per pano del viagere che la compose non abusar del tempo capa si amati occultamente fugge prendi il trin della sorte che è parata di presto e se tu non la prendi in questo giorno mai più non no non no mai più credo a me parà ritorno mai più non no credo a me parà ritorno non no mai più parà ritorno parà ritorno parà ritorno parà ritorno parà ritorno parà ritorno ok quasi si quasi secondo me ci può essere un po' di incansato scusa quando lui dice credo a me quando andiamo nel passo di segno minimo giorno parà ritorno vai più vai più vai più vai vai dai andai a comportarlo avanti devi essere convincente dai forza è quella che l'unicita si 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 Grazie.